Il primo Natale sul trono di Palazzo Trissino. Giacomo Possamai chiude il 2023, l'anno che lo ha visto diventare sindaco di Vicenza, un'avventura politica che è appena iniziata. Non posso che dire che ricorderemo il giorno della vittoria alle elezioni amministrative, questa nuova avventura che è iniziata e che in questi sei mesi ci ha già portato a fare tante cose, un impegno quotidiano per Vicenza. Essere sindaco però significa tante cose, molte responsabilità, ma su tutto l'impegno per la propria città e per la propria gente, a cominciare da chi ha meno, da chi è in difficoltà. Mi preoccupa l'aspetto sociale, tante persone che non hanno la casa, che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, su questo da sindaco la preoccupazione è tanta, per cui l'auspicio è che in vista del prossimo anno le cose possano migliorare. Molte le attese che Giacomo possa mai ripone sul 2024, il nuovo anno si annuncia pieno di sfide, a cominciare dai cantieri TAV. Sarà un 2024 impegnativo per Vicenza perché inizieranno i cantieri della TAV, ci saranno i primi espropri, quindi il primo pensiero sarà stare vicino a chi dovrà cercare una casa e a tanti vicentini che subiranno i disagi degli interventi dei cantieri, ma tante sono le cose da fare e su questo con Rete Veneta ci aggiorneremo puntualmente. E noi di Rete Veneta ovviamente informeremo tempestivamente, come sempre, i nostri telespettatori. Saremo la vostra voce, continueremo a portare le istanze dei cittadini alle autorità competenti, a raccontarvi piccoli e grandi eventi. L'appuntamento principale, che documenteremo in tempo reale con le nostre dirette, sarà la grande adunata nazionale degli Alpini, che vedrà Vicenza, capitale delle penne nere, da venerdì 10 a domenica 12 maggio. La grande adunata nel maggio del prossimo anno, un appuntamento storico per la città, dopo tanti anni l'amministrazione e la città si stanno preparando al meglio. Insomma, un futuro pieno di eventi, che segneranno la storia di Vicenza. Ma andiamo con ordine, prima finiamo questo 2023. Quest'anno cosa si aspetta di trovare sotto all'albero il sindaco, Giacomo Possamai? Vorrei trovare gioia e serenità per la città, per i vicentini, come sindaco è per me la cosa più importante e su questo nel nostro piccolo ci daremo da fare.